Montecatini ha accolto la tredicesima edizione della Corsa dei Camerieri, una quarantina di studenti e studentesse dell'Istituto Alberghiero Martini, vestiti in tenuta lavorativa e muniti di un vassoio con calici, bottiglie e vari contenitori, si sono sfidati per le vie del centro, cercando di arrivare primi, incorrendo però in meno penalità possibili. Dal 2014 la Corsa è intitolata Annerio Natalini, indimenticato insegnante dell'Istituto Alberghiero scomparso nel 2013. La gara fu ideata da Annerio Natalini, professore della scuola alberghiera, che si rifece un po' alla Corsa dei Camerieri che veniva fatta a Parigi e ebbe questa idea di trasferirla anche a Montecatini Terme. È stata fatta per diversi anni, poi c'è stata una pausa, dopo la sua morte c'è stata una pausa di diversi anni, dopodiché io e i figli l'abbiamo ripresa perché chiaramente è una tradizione molto importante per Montecatini Terme. Non c'è un ristorante o albergo che funzioni se non ci sono dei bravi camerieri, insomma, quindi in realtà il ruolo si è spesso sottovalutato ma di importanza fondamentale. Secondo me era una cosa molto carina e quindi sono voluto partecipare. Ma quanto conta l'equilibrio nel ruolo di cameriere? È tutto l'equilibrio nel ruolo di cameriere perché appunto se uno magari barcolla un po' casca tutto per terra, soprattutto con le bottiglie d'acqua che sono molto difficili diciamo. Qual è il segreto per tenere il vassoio in equilibrio? Personalmente secondo me il segreto è pensare che il vassoio sia come una parte della mano. La postura. In che senso? Come c'è la postura, c'è la... Come bisogna stare per stare in equilibrio? Boh, con le spalle alte, non lo so. Possiamo mettere il vassoio più dritto possibile, non distrarsi e magari, ne so, prendere spunto dagli altri, insomma da quelli più bravi. Qual è la cosa più difficile nel ruolo di cameriere? Il contatto con la gente, comunque devi saper relazionare. Come è andata? Difficile. Poi? Vivaldi. Allora?